Con tre ace avrei vinto un gratte vinci da lui e Andrea Tomasini E ho detto vabbè tre ace facciamo che con quattro e domani mi fai entrare Ha accettato, ieri ho fatto cinque ace e mi ha fatto entrare e è andata da Dio Sono contentissimo, grazie Un po' raccontaci le esordi insomma, quanto è emozionante Tantissimo, sono davvero senza parole, è stato bellissimo, è emozionantissimo Tra l'altro ho giocato in un palazzetto contro una squadra fortissima e davanti a 4200 spettatori Infatti è stata pesante, molta pressione però sono andato lì e ho fatto quello che so fare E per fortuna è andata bene